Buona giornata da Leonor. Lettura, nuova lettura per quanto riguarda Kate Middleton. Questa è una lettura sempre con l'oracolo Breath of the Night e è molto chiaro, ma soprattutto poco bello per lei. Perché questa malattia che lei ha addosso la porterà probabilmente a una morte anticipata e soprattutto mi si parla di problemi tipo ictus, ischemia, che andranno avanti dopo quel lavoro che hanno fatto. Perché come sapete, se avete visto i video precedenti, Kate è stata operata per aneurisma toracico. Probabilmente sarà poi quello a portarla via. Dovete sapere che soprattutto in questo caso i sierati lei li aveva fatti, io pensavo fossero finti, invece lei ha fatto quelli veri così come gli altri membri. D'altronde anche Berlusconi aveva fatto quello vero, io mai mi sarei aspettata. Abbiamo poi la conferma dell'allontanamento, ossia dell'abbandono. Questo indica un lavoro anche esoterico, quindi lei oltre al problema che ha a livello appunto di cardiaco e vascolare, c'è un lavoro pratico su di lei. Che vi mostrerò in stesure specifiche che ho fatto sulle sue negatività. E non c'è niente di positivo in questa stesura. Sì, potrà riprendersi per un certo periodo, però poi si ritroverebbe ancora lo stesso problema. A presto!